Bisogna, non è stato semplice, è inutile che ci giriamo tanto intorno, avevamo tante aspettative sul nostro derby, tanta fiducia, tanta positività, poi è andata come è andata, male, e quindi è stata una delusione forte, ma abbiamo la Champions, tra virgolette per fortuna, perché l'unico modo per cercare di switchare era preparare questa partita, l'abbiamo fatto da oggi, con molta attenzione, con molta concentrazione, sappiamo quanto è tosto il girone e quanto sarebbe importante cominciare bene questa gira di Champions. Non voglio tornarci a quello che dovevo dire, l'ho detto prima, nel senso che è una pagella nettamente insufficiente, per quanto riguarda il derby, non avete idea di quanto mi pesi questa situazione. Se potesse andare da... quanti milioni di tifosi hanno qui in Mina? Tanti. Se potesse andare da ognuno di loro a fargli capire questo, lo farei, ma non credo che serva, nel senso che poi nei rapporti di amore e di affetto non contano tanto le parole, contano di più gli atteggiamenti e i comportamenti. Grazie.